Ci sono paesi che il terremoto ha cancellato e che non saranno più ricostruiti. La collina su cui sorgeva Pescara del Tronto, frazione di Arquata, la notte del terremoto è venuta giù, portandosi dietro le case di tuffo e la vita di 47 persone. Ora il rischio di altre frane è troppo altro per pensare di ricostruire. Pescara del Tronto è uno di quei centri che contano, poche decine di residenti che d'estate però diventano centinaia, persone che sono nate qui ma lavorano fuori e che anche ora vorrebbero continuare a sentirsi parte della comunità e invece devono fare i conti con un'assurda burocrazia. Pensiamo di risolvere il problema visto che non ci spetta niente come seconda casa. Abbiamo pensato di mettere questa casetta, però stanno facendo di tutto per mandarci via in tutti i modi. Sono quattro in tutto le casette ritenute abusive per le quali nei prossimi giorni il sindaco emetterà un'ordinanza di sgombero. Ci hanno dato fino a domani. Domani che è il giorno dell'anniversario? Infatti sì. Tanto per celebrare l'anniversario dobbiamo andare via anche noi, cioè ci ostiniamo a ritornare perché noi siamo nati qui e vogliamo stare qui. Non abbiamo più casa, non abbiamo più paese, vogliamo ricostruire una comunità e nemmeno questo ci permettono. È vero che c'è un'ordinanza per mandarli via? Lì non è che c'è un'ordinanza, devo emettere, adesso aspetto, aspetto perché poi l'estate fra poco è e poi non è che posso tenerli a occupare solo pubblico. Bruno è nato a Pescara del Tronto, si era trasferito a Roma per lavoro ma dal 2014 era tornato a vivere qui pur non avendo preso la residenza. Ha perso la casa che si era ristrutturato coi soldi della pensione, non ha diritto a un modulo abitativo e ora rischia di essere cacciato via. Che effetto le fa sentirsi abusivo nel suo paese? Mi fa male. È un dolore, non lo so, indescrivibile perché me lo sento meglio il paese. Ortrelò, non lo so, indescrivibile perché me lo sento meglio il paese.